C'è una buona collaborazione oggi tra l'associazione bancaria, tra l'ordine dei dottori commercialisti, tra l'Anci per cercare di stabilire insieme un percorso che ci consente di essere vicini alle società partecipate che oggi stanno affrontando un nodo importante varato con la legge Madia. Cioè le modalità con cui viene accertato il rischio di impresa e le linee guida per evitare condizioni di dissesto finanziario. Questa occasione di collaborazione ha mostrato che nel campo delle partecipate non è che tutto vada male come qualcuno qualche volta vuole fare passare. Ci sono stati degli esempi importanti di semplificazione e di forte riduzione delle nomine effettuali dagli enti locali nel campo delle partecipate e le società partecipate che stanno nella borsa hanno avuto degli eccellenti risultati in questi anni. E quindi ci sono certamente società partecipate che stanno in condizioni di difficoltà, ma ce ne sono tante che stanno in modo positivo. Questa occasione di collaborazione varata qui è importante e l'Anci ne ha affermato il valore.